Ciao, io sono Gianni95 e oggi troviamo su Candy Crush Soda Saga Allora, premetto subito che oggi avremmo dovuto fare Among Us Però mi andava di più oggi di fare questo gioco Perché visto che abbiamo iniziato ieri, voi avete visto ieri questo episodio Io ovviamente vi sto registrando questo video praticamente subito dopo avervi fatto il precedente Quindi non so come sia andato, non so come vi sia piaciuto e quant'altro Io semplicemente, visto che voi non mi date le vostre preferenze delle serie E anche quelle delle serie future che vi ho scritto nell'ultimo episodio di Not Not Allora ho deciso, per conto mio, di portare un altro episodio di Candy Crush Soda Saga Perché avevo iniziato ma volevo portarlo un po' più avanti Volevo mandare avanti perché qua vorrei avvenzare un po' Magari dopo un certo livello comincerò a fare delle cose off camera Poi mi direte voi se vi piace vedere un po' per volta o volete vedere tutti i livelli Fatemelo sapere Qua c'è un po' di domanda, cos'è? Ah, offerta Vabbè Livello 7 Trovo gli risetti Ok Andiamo a direnne con queste tre stelle Forse è il primo colpo, non lo so Il primo colpo, va bene Allora qua facciamo un 5 E con un 4 Ok, doppio pesciolino Dovevo trovare gli risetti che stanno nascosti sotto le gelatine Per fare la figura Ok L'audio si dovrebbe sentire come sempre O almeno non dovrei neanche ripetere più Che bella combo che ho fatto Fatto No, 4 5 Ne manca uno, quello di sotto Manca questo qua Va bene Ok Perfetto L'abbiamo trovato Adesso non so come verrà a commentare Perché sono un po' stordito Sto prendendo delle medicine Che Però sono un po' stordito Quindi Non so Quanto il mio commento Vi possa piacere Io ci provo E anche Se non sto In perfetta forma Per voi Per portarvi i contenuti Ci provo Volevo avanzare su Questo gioco Per andare avanti Gelli sale Se ci consiglio Già il prossimo gioco Portano Prodine Che di crescita La forte Dove Ci donna Adesso Ok Livello 8 Fai scoprire le bottiglie Ok Il precedente obiettivo Adesso Ok Va bene Ci va bene Allora Se noi facciamo scoprire le bottiglie Sale la soda E Finisce il livello No Ce ne voglio 8 di bottiglie 8 bottiglie Ok Vi ricordo che La soda Fa andare Le caramelle Al contrario Andiamo verso l'alto Sotto Vai Eh Se riuscissi a far scoprire quella Sarei a posto Ah Questo qua Perfetto Questo abbinamento Ok Ne manca una Quella lì che sta all'angolo Alancione Per far scoprire quella Devo cercare di far scendere O salire Della roba Ecco Tipo questo Tipo così Perfetto L'intro l'ho fatta molto più corta Quindi Apprezzate Che l'abbia accorciata così tanto Va bene Tre stelle Per ora sta andando molto molto bene Vai Livello 8 Se poi mi dite che Due Due episodi di questa serie Non vi piacciono Sono troppi Me lo fate sapere Io Non vi porterò Due episodi di fila Ma questo l'ho già fatto Con il gioco Sono arrivati fino al 1000 E vabbè Andiamo a 9 No 9 9 Perfetto Fai scoprire le bottiglie Perfetto Le bottiglie Che Che Gli osacchiotti Ah Qua ci sono degli ostacoli in mezzo Se noi Questa praticamente Secondo me Se ci facciamo gli abbinamenti vicino Vanno via Ok Si Era intuibile Sono dei blocchi di ostacoli Basta Ostacolo Non è basta Ok Ok Mi c'è le bottiglie Va bene Va bene Ok Ok Se conoscete qualche trucchetto Per Fare qualche putteggio extra Potete anche Potete anche far sapere Potete fare così Così Interaggiamo Tra di noi Perfetto Perfetto Fatto Livello Fatto Si Ho fatto scoprire le bottiglie Sono andato bravissimo E va bene Allora Io comunque cercherò di parlare Abbastanza alto Anche se come vi ho detto Sono Un po' stordito Oggi E quindi Vabbè Cercherò di 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 Non Sono Nelle mie Facoltà Per Fa Questo Livello 10 Trovi 7 Difficile Questo Livello Difficile Vediamo Quanto Sarà Difficile Vediamo Se Già 95 Sarà In Difficoltà Per Questo Livello 5 A Qua Sacchiotti 10 Sacchiotti Va Bene Le Mostre Ci Sono Per Farla Quindi Ce La Do Io Vero Far L'altro Però Grazie Ok Vai Un altro Sacchiotto Va Bene Ah Ma ci sono I doppi Da Tirare Via Adesso E Il Doppio Ghiaccio Ok Perfetto Va bene Comunque Solamente Questa Settimana Che vi Carico Ne Bisogna Più Giusto Per Avanzare Questa Serie E Per Dare Uno Stacco A Ad Among Gas E Si Fa Ogni Domenica Uno Stacchino Lo Facciamo Fatto Era Difficile Ma Giorni 95 È Bravo E Lo Riusci A Passare Tutti Vedi Perfetto Dovete Lasciare Like Per Questo Non Potete Non Lasciare Like Sono Bravissimo E Vi sto Portando Giochi Che Nessuno Vi Porta Un Comment Che Nessuno Vi Porta Sul Canale Perché Pensa Che Sono I Oso Perché Non Hai Tendenza Ma Non C'è L'importante Non È Solo Giocare A I Giochi I Giochi Tipo Fortnite Minecraft Grazie Beto Dotato Ok Ma Secondo Ma Questa Cosa Sarà A Pagamento Quindi Va Bene Questo È Un altro Gioco Che Faremo Più Avanti Magari Allora Livello 11 Vediamo Magari Cercherò Di Durare Un Po Di Più Per Fare Più Livelli Poi Tranquilli Che Questo Video Lo Potete Spezzare Più Parti Potete Vederlo Metà La Mattina Metà La Sera Per Darvi Un po Di Stacco E Magari Non Gli Avete Meno Non Lo So E Potente Che I Video Guardiate Perché Più Guardate I Video Più Il Canale Ci Guadagna Ok Perfetto Qui ci Sono I Doppi Ostacoli Ci Sono I Muffin Così Possiamo Chiamare I Do Oggetti Che combo Che Combo Credibile Proprio lui Perfetto Guarda lì Guarda lì Fatto Il livello Fatto Questo Siamo All'inizio Però Per ora Stiamo andando Veramente Molto Bene Guarda quanti Punti Non so se Anche qua Ci stanno Le stelle Di zucchero Ma Penso Di No Primo Ovviamente Va Bene Ovvio C'è Già di 95 Deve Arrivare Primo No Siete D'accordo Con me 11 No qua Non credo C'erano Stelle Dure Sono Stelle Dorate Non Non lo So Quelli Sano Solo Di crash Normale Però Non Non Lo So Il Primo Colpo Cos'è Quella Roba Lì Ah Da lì Scendo Le bottiglie Ok Ci sono I I Distributori Di bottiglie Va bene Va bene Distributori Di bottiglie Le facciamo Noi Ok Il problema È che Quella Roba Sopra La Scende Solamente Si Abbino La parte Dove Non c'è La soda E Quindi Un casino Facciamo Così Eccolo Lì Fatto Anche Oltre All'obiettivo Abbiamo Fatto Perfetto Va Benissimo Livello 12 L'abbiamo Fatto Sono Abbastanza Spedito In modo Da fare Più Livelli Possibili E Avanzare Fai Vedere Se Avanti 29 Vabbè Scorso Di booster Iniziano A livello Con Una delizia No Non Adesso I booster Teniamo E non Lo usiamo In questi Livelli Facili Magari In livelli Futuri Che saranno Molto Più Complicati Ovviamente Doviamo Usare Solamente Quando Ci Necessitano Non A Caso Per I gusti Di Usarli Allora Questi giorni Comunque Ho preso Un po' La voglia Di Di Giocare Fare Video Però Naturalmente Sto cercando Di Non farmi Mancare Video Però Ci vuole La costanza Adesso I distributori Sanno Sotto La soda Soda Basso Che Vabbè Può Può Contrare Però L'abbio Fatto Quindi Va bene A noi Ci va Bene Sono La Passi Viola Vabbè Un altro Booster Dai Facciamo Anche 14 Trovi Rossetti Allora Ho visto Sicuramente Ci sono Molti Molti Livelli Non A parte Ci fermiamo Adesso Perché Non So Quanto Il video Posso Entrare Lung Un altro Livello Però Fatemi sapere Anche voi Se volete Episodi Più Raramente Che so Che vi porto Avanti Anche Off camera Oppure Volete Vedere Tutti I livelli Dovrebbero Essere Più 6 Mila Livelli Da Quello Che C'era Scritto Nella Descrizione Del Gioco Quindi Sono Tanti Non So Non Credo Proprio Che Vi porterò Tutti I livelli Però Se Voi Li Volete Posso Fare Posso Provarci Va Bene Se Insomma Ogni Soglia Che Raggiungiamo Oppure Ogni Nuova Difficoltà Non lo So Vediamo Iscrivetevi La vostra Opinione Iscrivetevi Iscrivetevi Al canale Noi Ci vediamo Il prossimo Video A presto